Un saluto da Jack Buonora. Ieri sera, al termine del match Virtus Bologna-Olimpia-Cospi-Reo, che ho raccontato per Radio Basket 108, ho fatto il classico commento post partita, rapido, con tutto il sottofondo dei tifosi festanti, ovviamente quelli bianconeri, perché c'erano anche quelli ellenici che si sono fatti sentire, ma non erano festanti alla fine. E alla fine di tutto, però, la cosa che mi ha colpito è ricevere vari messaggi di utenti che hanno detto ma non hai fatto il solito editoriale per YouTube, per i social. In realtà pensavo bastasse quello, ma vedo che piace. E allora, visto che ho la felpa grigia, faccio come la Ferragni, come Sumarò, mi scuso. Adesso sapete che è l'abbigliamento da scuse questo, no? C'è da dire però che la Ferragni ha un crollo fisico quando ha l'espressione da scusa rispetto a quella entusiasta col trucco. Io invece sono sempre così. E vabbè. Prendiamo atto di ciò e prendete atto dalle mie scuse e prendete atto del fatto che risolvo, peraltro per una cosa molto meno grave evidentemente di quella che è capitata, non tanto per i pandori, che mi piacciono da matti, che sarebbe l'ultimo problema, ma per il fatto che, insomma, ci va di mezzo la solidarietà e delle persone che soffrono. Al di là di ciò, rimango sull'aspetto cestistico e parlo della vittoria della Virtus con l'Olympia Cors. È stata, diciamo subito, una delle partite più sorprendenti a cui abbia assistito. Nel senso che non ho visto un solo motivo per il quale la Virtus potesse vincere questa partita. Da una parte, due fenomeni sotto canestro per l'Europa, Milutinov e Foll. Dall'altra parte, un 37enne e un giocatore che fino ad ora è stato un buco nero, lo dico con tutto il rispetto. Che cosa è successo? Vabbè, la Virtus l'ha vinta per una difesa nel secondo tempo clamorosa. L'ha vinta con gli attributi e con una squadra che ha cambiato volto. Ma attenzione, ha cambiato volto, non mettendosi a giocare splendidamente, rubacchiando tutto quello che c'era da rubacchiare. Una partita in cui non c'era Mickey, in cui Schenghelia nel primo tempo era stato assolutamente negativo, in cui non riusciva a trovare i suoi mismatch pallacanestro perché si trovava dei giganti alle spalle. E poi, Dunstan, male, il migliore di tutti era che Cocca, autore di una buona prova. Nel secondo tempo la difesa collettiva ha fatto sì che la squadra cambiasse letteralmente volto. Dunstan è cresciuto, ha dato un saggio di pallacanestro per mille aspetti, anche se non è in grado di emergere come emergeva dieci anni fa, ma è riuscito a far vedere delle cose importanti contro dei colossi, che Cocca poi è tornato in panchina ma l'aveva già fatto in suo e l'aveva fatto molto molto bene. Ok, Cordinia in attacco, ma super in difesa. Ok, Beninelli in attacco, in difesa fa quello che può. E poi c'è un signore che si chiama Hackett, che ha due attributi clamorosi. Adesso si dice, ma richiamereste questa gente in nazionale? Sì, se fossero in grado di giocare in nazionale come stanno giocando adesso nella squadra di club e soprattutto se fossero poi in grado di tornare in Virtus giocando come stanno giocando ora dopo essersi logorati con la maglia della nazionale. Ma c'è un solo problema, si invecchia. È come dire, facile andare a vent'anni in discoteca, ubriacarsi, fare il dritto e andare a lavorare. Ecco, a 50 è un po' più scomodo e ve lo garantisco per esperienza personale. Quindi, detto questo, niente nazionale per Hackett, per Beninelli, solo Virtus e però in Virtus stanno facendo delle cose splendide. È stata una vittoria incredibile, veramente incredibile, di attributi perché io non avrei mai pensato che questa Virtus potesse portare a casa la partita dopo il primo tempo. Ma il problema non è che stesse giocando male, quello è un dato di fatto. Il problema è che c'era proprio una chiave tattica in cui vedevi due fenomeni sotto canestro. Attenzione però, sono due fenomeni che si alternano da 20 minuti l'uno, tra virgolette. Non sono due fenomeni che giocano insieme, questo incide. Però clamorosi. Ma alla fine, se ci metti Schengheglia nel secondo tempo, se ci metti Keckhock nel primo, ci metti la crescita di Dunstor, ci metti una squadra che difende in maniera clamorosa, se loro perdono qualche certezza, ecco che poi la musica può cambiare. Anche perché ti sale Dobric e ti infila quelle due bombe e un paio di canestri che cambiano letteralmente il volto alla gara. E poi c'è il pubblico, perché noi continuiamo a dire che meraviglia il pubblico della fortitudo, ed è innegabile. Ed è innegabile. Ma il sottoscritto va al palazzo del 78, il pubblico del 78 era un pubblico ingessato in casa Virtus. Negli ultimi vent'anni è radicalmente cambiato, e bisogna dire ha fatto gioco, purtroppo, la radiazione della Virtus del 2003. Di conseguenza, terminato il gioco degli abbonati che avevano le prelazioni, un pubblico nuovo ed è un pubblico fantastico che sostiene la squadra in ogni singolo secondo del match. Non è che giocare alla Segafredo Arena adesso sia una passeggiata, capiamoci molto molto bene. Per cui, per quanto mi riguarda, è stata una vittoria spettacolare. Un match che vi potrei dire non bello, come magari era stato bello quello col Maccabi, ma è stato un match rivoltato come un calzino con degli attributi veramente non comuni. Dove può arrivare questa Virtus? Io, signori, vi continuo a evidenziare i limiti, ma i limiti sono evidenti. Perché, attenzione, non c'è Smith, ma Banky tiene in panchina per 40 minuti Gianni Smith. Senta Jordan, scusate, non c'è Mickey, e tiene Smith in panchina per 40 minuti. E allora, che cosa facciamo? Prendiamo atto che sì, non è bello parlare di mercato in questo momento, ma di mercato bisognerà parlare. Certo, se Kekok fosse sempre questo, io vi direi avanti con Kekok, ma Kekok è stato questo in due, tre partite, a dire molto, nella stagione. Banky saprà fare le sue valutazioni, ok? Faccio fatica a dirvi cosa si deve fare. È evidente che quell'asse Smith-Kekok ha delle carenze. Se però Kekok cresce e a quel punto si valuta di andare avanti così, si può anche intervenire su Smith. Io francamente avrei fatto l'opposto. Avrei tenuto Smith, va bene, spendendo soldi li avrei salutati entrambi, ma se avessi dovuto scegliere, quello Smith che a me non era dispiassuto nelle ultime uscite, lo avrei tenuto e avrei salutato Kekok. Che però ieri è stato prezioso per tenere la squadra abbastanza vicino all'Olimpia Corsa quando tutti gli altri del reparto o non c'erano stavano giocando male. E di conseguenza vedremo cosa saprà tirare fuori Banky e da Kekok, per la cronaca non lo ha scelto lui. Dico solo che le carenze le vede il pubblico, le vede l'allenatore, le vedono i compagni di squadra e le vede la dirigenza. Poi uno deve dire quanto c'è nel portafoglio e da lì può decidere come muoversi. Però mentre noi, lo ribadisco sempre, continuiamo a evidenziare le carenze della Virtus, che sono evidenti, note, tutto quello che volete voi, la Virtus è seconda in Eurolega. Ok? Seconda in Eurolega. Io pensavo che non potesse arrivare nelle prime dieci, mi sono sicuramente sbagliato, ed ecco qui la felpa alla Ferragni, perfetta per le scuse, anche se poi è ovviamente griffata rosso-blu in stile Bologna e oggi non è bianco-nero a stile Virtus. Ma al di là di questo, non solo a questo punto la Virtus può arrivare nelle prime dieci, ma sembra avere addirittura le capacità per arrivare nelle prime sei. Io non so che cosa capiterà. Ci stiamo divertendo pazzamente, se Bologna sogna, e così mi fate fare l'analogia col Bologna, a livello calcistico sta sognando anche a livello cestistico con una splendida Virtus e, lasciatemi dire, sta sognando anche con una bellissima fortitudo che sta disputando un ottimo campionato di Lega 2. È il modo migliore per chiudere il 2023, ma ovviamente vogliamo che le cose proseguano nel 2024 e, se possibile, vadano anche meglio. Gli auguri, c'è ancora tempo. A presto.